Una delle figure più interessanti di figli spirituali di Padre Pio è quella di Maria Tartaglino che Francesco Bosco in uno degli ultimi numeri di voce di Padre Pio, quello di luglio e di agosto 2020 ha voluto descrivere, mettendo in correlazione, un crocifisso sanguinante e che ancora sanguina così come racconti nel tuo articolo Francesco. Sì, parliamo di Maria Tartaglino che non è ancora cominciata un'inchiesta diocesana è una testimone della Chiesa. Maria è stata una ragazza dove la sua vita è stata subito tracciata dalla sofferenza nata di venerdì 17 settembre del 1887, ebbe un problema all'occhio, una ragazza innamorata di Dio di grande fede. Subito voglio mettere in evidenza quello che a volte si riscontra con la santità dei figli spirituali di Padre Pio, perché venite da me avete la vostra Maria ad Asti. Questa era la risposta che dava Padre Pio a quanti scendevano dal Piemonte, in particolare si trovavano ad Asti e incontravano Padre Pio. Questa era la sua risposta. Maria e Padre Pio non si sono mai incontrati, Maria non si è mai spostata ad Asti se non nella campagna vicina, però si sono visti, conosciuti, lo racconta la stessa Maria nei suoi diari, più volte, quattro almeno le bilocazioni documentate. Addirittura Maria è stata anche qui a San Giovanni Rotondo in bilocazione, qualcuno gli ha raccontato come era fatto il convento di San Giovanni Rotondo e lei ha confermato alcuni dettagli, una bilocazione particolare dove lei si è ritrovata proprio dinanzi alla porta del piccolo convento di San Giovanni Rotondo, è entrata, le ha aperto il portone Padre Pio e poi dopo una passeggiata di entrambi si raccontavano quello che accadeva nella sua vita e poi si sono ritrovati nella sua stanza ad Asti. Ecco, una straordinaria storia che è legata, sì come dicevi, a questo crocifisso, però prima di entrare nel crocifisso, perché a volte si dà attenzione più a questo effetto straordinario e non alla vita di Maria, che è stata una vita significativa, lei voleva una vita potremmo dire segnata già come Asti lo è da un grande santo, Giuseppe Marello, è proprio nella struttura dove, che ha creato, ha costruito, ha fondato, parliamo dei religiosi giuseppini, la congregazione dei giuseppini San Giuseppe Marello, Maria è entrata, tra le cosiddette le figlie di Sant'Anna, fondate proprio da Giuseppe Marello, dove arrivavano tante orfanelle che poi divenute adulte non volevano diventare suore ma nemmeno tornare nel mondo, quindi tenevano questa vita, infatti le figlie di Sant'Anna erano poi addette a dare una mano nella cucina, nelle pulizie ai religiosi, agli obblati e ai giuseppini, la congregazione fondata da San Giuseppe. Le giornate erano straordinarie, fatte come per una giovane che pregava, sempre disponibile a tutti, altruista, facendo tutti i diversi servizi. I sacerdoti occupavano un posto particolare nella sua vita, anche perché lei subito si offre vittima, interceditrice proprio per la loro santificazione, quindi vive un intenso rapporto con Gesù, parla con lui, con la Madonna, sopporta molte sofferenze, sia morali, fisiche e Gesù le va incontro, lei ha una serie di visioni, tra l'altro anche le stimmate, porta i segni delle stimmate che sono visibili per circa cinque anni, dal 1925 al 1930, lei proprio supplica il Signore chiedendogli di togliere questo dono perché nessuno se ne accorgesse. Poi viene esaudita, ma i dolori corrispondono sempre, i dolori corrispondenti proprio le dureranno per tutta la vita. Scrive moltissimo, pensate, circa 440 lettere, una vera e propria miniera spirituale, come è stata definita. E poi scrive anche dei libri, Sposalizio mistico dell'anima con Gesù, un altro su come evitare il purgatorio, poesie, pensieri per il mese di giugno, scrive anche delle lettere alla suola che la controllava per ordine del suo confessore le stimmate, oltre ad una sua autobiografia dove lei si racconta. Ecco, la sua vita, la sua vita in un certo senso è stata un po' nascosta fino all'11 agosto del 1933. Lei aveva questo crocifisso, 52 cm, sul suo comodino. Nella foto lo rivediamo proprio, ed è una copia di questo crocifisso perché le venne subito tolto. Questo crocifisso che apparteneva, quindi era stato donato di mano in mano, apparteneva a San Giuseppe Marello. E questo crocifisso a cui lei rivolgeva tutta una serie di preghiere la sera, quando era nella sua stanza di questa struttura che era proprio accanto al luogo dove abitano oggi i Giuseppini, lei affidava tutte le sue pene, tutte le sue preghiere e in quel periodo particolare lei pregava in modo significativo per le offese che Gesù aveva in quel momento proprio dai suoi consacrati. Era una preghiera forte che faceva Maria Tartaglino, tanto è vero che nei suoi racconti scrive che Gesù è talmente offeso di quello che è accaduto, è appunto il crocifisso assanguinato. Il crocifisso che sanguina per ben due volte, infatti abbiamo anche delle foto dove questo crocifisso assanguinato è un prete che scatta la fotografia, ci sono 17 testimoni tra cui suore, religiosi, quindi sacerdoti e laici. E come accade, c'è chi non credeva, chi credeva fermamente in quello che stava accadendo, tant'è vero che il... Il vescovo infatti poi va a scrivere che si tratta di miracolo, di fatto soprannaturale. Certo, perché vanno ad aprire un vero e proprio processo su quello che è accaduto, un processo interno dei religiosi Giuseppini e si ha un processo della curia e dopo arriva la sentenza direttamente dal vescovo che è un fatto soprannaturale. Infatti questo crocifisso poi viene intronizzato in chiesa dopo la conclusione del processo, 9 marzo del 34, esposto alla venerazione dei fedeli, quindi possiamo immaginare quello che accade ad Asti, più di 10.000 persone il giorno dell'intronizzazione, continuamente arrivavano pellegrini fedeli dal nord Italia per questo fatto straordinario e soprattutto in termini anche di conversioni, le prime conversioni, tanti andavano lì per confessarsi, quindi era una situazione che in Vaticano... Al santo uffizio non piace. Al santo uffizio soprattutto non piacque. Allora di notte viene portato via questo crocifisso e non è più ritornato ad Asti e portato nel santo uffizio dove si trova tuttora, credo forse negli archivi e soprattutto è stato imposto ai Giuseppini, tra l'altro è una sorta di decreto che vale tuttora di fare silenzio sull'accaduto. Una disposizione quindi ancora vigente contro la stessa Tartaglino e anche contro gli oblati di San Giuseppe così che si scatena una vera e propria campagna denigratoria, possiamo immaginare quello che è accaduto in quel periodo. Viene rimosso padre Martino che spesso veniva qui a San Giovanni Rotondo, veniva a chiedere consiglio allo stesso padre Pio che era il provinciale degli oblati di San Giuseppe, era stato appena rieletto e viene subito rimosso. Quindi tutta una serie di situazioni dove prendono corpo proprio contro la stessa congregazione. Maria però si impegna, scrivi nel tuo articolo, a riportare il crocifisso ad Asti. Niente, però non riesce a riportarlo, lei si confida anche con padre Pio, quindi in bilocazione e lei scrive, soprattutto con coloro che arrivavano qui a San Giovanni Rotondo e chiedevano, e padre Pio li rincuorava, diceva è tutto vero ma abbiate pazienza, auspicava in un ritorno di questo crocifisso. Tra l'altro ecco quando tu hai fatto riferimento al fatto che questo crocifisso ha sanguinato ancora è perché un santo come Don Orione che ha conosciuto la Tartaglino attraverso diverse persone, lui è sempre stato assertore della verità soprannaturale di questo fatto, del crocifisso, anche dopo che fu tolto dal culto pubblico. Quindi assicurando tutti i conoscenti e amici che il crocifisso aveva versato sangue più volte anche a Roma. Maria muore a 57 anni il primo settembre del 1944 di venerdì, una storia dunque strettamente legata a questo crocifisso che siamo sicuri farà ancora parlare, un'altra grande figura straordinaria, santificata, anche se la Chiesa non ha ancora avviato l'iter per il riconoscimento ufficiale dalla spiritualità e anche da questo amore per la croce che viene proprio da padre Pio da Pietrelcina. Grazie Francesco, grazie a tutti quanti voi. Grazie a tutti.